Dopo i disagi patiti dagli automobilisti tra i cantieri infiniti dell'autostrada 24, qualcosa si muove. Entro fine mese dovrebbe essere restituito alla collettività il nuovo svincolo all'Aquila Ovest, gli operai stanno lavorando in questi giorni, che andrà a sostituire la rotatoria che ormai da troppo tempo crea complicanze a chi entra ed esce dall'Aquila. A prendere una posizione ufficiale ormai dopo tanto tempo è stata direttamente la prefettura che ha inteso rispondere così ai pendolari che avevano lamentato la situazione spiegando quali saranno i tempi. Toto in pratica ha presentato un cronoprogramma che prevede che lo svincolo venga completato a fine ottobre. I cittadini in realtà avevano avanzato dei dubbi pure sull'essere a norma di questa che è una rotatoria provvisoria. Questi lavori rientrano in quelli che sono rimasti bloccati nell'ultimo anno a causa dei noti problemi di gestione dell'autostrada da quando il governo ha tolto la gestione a Toto affidandola ad Anas. Ci sono tutti i problemi giudiziari, ma c'è da dire che pure molte opere sono in capo al gruppo Toto, compresa questa. Ma non solo, anche la messa in sicurezza dei viadotti dell'Aquila Ovest attorno in parte. Attorno in parte, se vogliamo, la situazione ancora più grave e complessa, con code continui e rallentamenti per chi viaggia dall'Abruzzo sino a Roma. Anche questa è una situazione più volte lamentata dai pendolari. Qui però non c'è alcuna certezza dei tempi, i problemi permangono da oltre un anno e non si vede purtroppo la coda di questo intervento.